Radio Zimmari Quando la musica diventa poesia Eccoci, eccoci Buonasera, buonasera a tutti quanti Mercoledì 25 aprile Seconda live in compagnia di Sasa Santomauro Buonasera, buonasera a tutti Gli amici dell'Arciperago Euliano Nonché agli amici siciliani E gli amici italiani Buonasera a tutti E cominciamo subito Disco pilota di Questa sera Virtual Friend Stand by me Eh sì, non perdiamo Neanche tempo amici Buonasera, buonasera a tutti quanti Ancora una volta Stand by me, Virtual Friend Radio Zimmari Noi con Radio Zimmari Siamo presenti E voi ci siete? Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Stand by me It's the sky That we look upon Should tumble and fall Other mountains Should crumble To the sea I won't cry I won't cry No, I won't Shed a tear Just as long As you stand Radio Zimmari E la musica Prende vita Stand by me Stand by me Stand by me Amici Virtual Friend Come disco pilota Di questa seconda Live Del 25 maggio E noi Non perdiamo il sì Un po' Sono un po' Rimbambito Perché Mi sono svegliato Da poco Dici sì E svegliandomi Da poco Ancora Devo riuscire A connettermi Secondo brano In scaletta Amici No woman No cry Jean Müller Tutto questo Sempre Comunque A radiosi E Mario Web In compagnia Del vostro Sassan Santo Mauro E una buona serata Al nostro amico Antonio Sta It Abba Abba Serving A hypocrite Yeah Mingle With the good People We meet Good Friends We have Good Friends We've lost Along The way This Great Future You can't Forget Your past So dry Your tears I say No woman No cry No woman No cry Hey little guy Don't shed no tears No woman No cry Radio Zimmeri La web radio Ascoltata In two Le mans I remember When we used To sit In the government Yard In Trenchtown Yeah And then Georgie Would make The fire Light As the ark Would burn It through The night Say Then we'd cook Cornmeal porridge Yeah Which I'll share With you See my feet Is my Only carriage So So I've got To push Through While I'm gone I'll tell you Everything's gonna be Alright Everything's gonna be Alright Everything's gonna be Alright Everything's gonna be Alright No woman No cry Amici In questa seconda live Di questo 25 aprile Eh si Non è Io lo chiamo Lo zio Bobby Uzzu Bobby In siciliano Ma non è lui È Young Mueller E noi senza perdere Un attimo di tempo Amici Andiamo al prossimo Vrano in scaletta Di questa Seconda live Fall in love Sunset Sunset Every Show E devo dire anche che stamattina sono sceso giù al porto a fare colazione e mi sono accorto che davvero stanno aprendo tutti Ha aperto anche a disca bianca giù e poi da anche una piccola informazione per i nostri naviganti che la prossima settimana aprirà il Nautilius per cui chi viene con la barca basta andare nella baia di trauto e troverete lì Rosario o Roberto o Antonella Se dovete fare anche rifornimento di ghiaccio amici quest'anno con una grande novità Nautilius Nelle prossime live cercheremo di farvi avere i numeri di telefono dove potete contattare se volete ormeggiarvi e avere una boa nella baia di drauto E nel frattempo state ascoltando Radio Zimari appunto che trasmette da Panarea Isola e Olia Radio Zimari tutta un'altra musica Radio Zimarironico Radio Zimari e ricordo anche l'appuntamento dal 15 giugno intorno al 15 giugno dal 15 giugno in poi ancora è una cosa tutta da definire il ci sarà un programma condotto dal sottoscritto in compagnia di Gian Piero Letizia dove si parlerà esclusivamente di calcio in mercato e sì lo fanno tutti possiamo farlo anche noi e noi andiamo avanti col prossimo brano e con la musica di Radio Zimani Brezzin Papica e Alfredo Bocchicchio e come stavo dicendo dal 15 giugno ci sarà questo programma condotto da Gian Piero Letizia e dal sottoscritto dove ci sarà sarà un piccolo intrattenimento di un'ora un'oretta e mezza dove si parlerà esclusivamente di calciomercato e di calcio sia straniero che d'autriceano spagnolo Zimari the passion of love qui è è Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Mauro. Radio Zimmari. L'unica web web radio che puoi ascoltare. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Zimari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. con Radio Zimmari e SSA Santomauro è veramente tutta nata storia e lasciamo così Patti Bravo e Federico Scavo un po' versione disco music della bambola e l'amor Boroboro e Villa Bank a tutto questo amici a Radio Zimmari e andiamo un po' con reggaeton amici a Radio Zimmari in questa seconda live di questo mercoledì 25 maggio 2020 e salutiamo gli amici australiani di South Valley esattamente da Sidney ad soltare il mondo si che chiudi non è il amore io sono qui e te spero anche te stai buscando entro in la esquina del mondo però è una vera Se c'è una radio da ascoltare in tutto il web è solamente Radio Zimery Radio Zimery La radio E anche se aspettarti è un castigo ti aspetterei anche all'infinito e vorrei averti qui con me per dirti cosa penso e ti vorrei conoscere so già che in quel momento Mami non fermerò quello che ho nella testa già lo so che poi finiremo a fare festa dimmelo che vuoi essere tu la mia princesa giocherò tu combi completa Siento che lo sento tutto lo che è passato e sta bene che lo che mami tutto io te doi si mi dici dove mi vuoi vai pensarti qui con me ferma il tempo sotto a te e anche se aspettarti è un castigo ti aspetterei anche all'infinito yeah yeah ciò prendi che l'amor sei valendo come il reggaetto e l'amor amici Boroboro e Villa Bank Radio Zimmari in questo mercoledì di caldo bestiale e noi rimaniamo ancora in Italia veramente con un artista grande grande Francesco Renga mille errori in compagnia di Santomauro amici c'è Antonio Saiti il nostro ospite in eccezione il tempo vola e la felicità rimane solo una parola ed ha ragione quasi in modo ed è subito sera la vita è come una bimba su un bus e passeggere guardo la sfera ma la luna è solo un faro che illumina la strada ma io non ci vedo chiaro paro le parole imparo in fretta ciò che non mi uccide non mi tocca più e mi accendo un'altra sigaretta ma poi non la faccio più gira il mondo non si fermerà e tutto passa e nulla cambierà ci sono mille cose che non ho ancora capito io gira il mondo e non si fermerà e tutto passa e nulla cambierà ho fatto mille errori e non ho ancora finito i miei sogni non stanno in un cassetto ma in un cesto li ho messi a lavare perché li calpesti io adesso sogno di fare l'architetto per progettare meglio il tempo che ho perso e non ci sono troppi amici anzi ad essere onesto ci sono io sono il mio amico Francesco tra un ciao come va ciao ci sentiamo presto ma io non mi sento io non mi sento gira il mondo e non si fermerà e tutto passa e nulla cambierà ci sono mille cose che non ho ancora capito io gira il mondo e non si fermerà e tutto passa e nulla cambierà ho fatto mille errori e non ho ancora finito parola e parola imparo in fretta ciò che non mi uccide non mi tocca più e mi accendo un'altra sigaretta è come un déjà gira il mondo e non si fermerà e tutto passa e nulla cambierà ho fatto mille errori e non ho ancora finito io non ho ancora finito io mille errori non ho ancora finito io Francesco Renga amici mille errori mille errori eh ne abbiamo fatti tanti di errori tutti quanti arriva lui Bob Sinclair Borderline se vuoi ascoltare la miglior musica ascolta Radio Zimmari tutta un'altra musica just let it grow and keep on dancing together over the flashlight lay down with me to get better slowly drink me tonight take me to your borderline I swear that I could love it there's no need to be shy take me to the other side of your sickness story and your heartless life time to play with all my sins denying how I'm in your lies let me see your sweetest dreams radio Zimmari il cuore pulsante della musica radio Zimmari la musica di ieri e di oggi solo quando lo volete voi Bobby Sinclair amici a Radio Zimmari Borderline eh sì eh negli anni che ci saranno due anni che non riesce più a venire a Panarea a fare il serale del 15 agosto nella discoteca Raya di Panarea e nel frattempo noi ce lo ascoltiamo a Radio Zimmari Bob Sinclair Borderline e noi continuiamo ad andare ancora avanti amici Minded Spearless The Clapping Song e ricordo agli amici che state ascoltando Radio Zimmari che trasmettiamo da Panarea Isole e Olie e studi amici Sassà Santomano Radio Zimmari il cuore pulsante della musica Sassà Santomauro la miglior musica italiana e straniera solo quando lo volete voi ma questa è Radio Zimmari ah fermati qui Web Radio Zimmari la radio davvero stupefacente The Clapping Song amici sono i Minded Enterprise a Radio Zimmari dall'album del Clapping Song il brano estratto appunto l'omonimo e devo dire che stiamo cominciando a connettere bene adesso anche se so che stanotte davvero si farà davvero tardi e noi e noi saremo qui a tenervi compagnia nei vostri momenti di mia linconia e ribadisco l'informazione per i nostri naviganti che decidono di venire a Panarea in barca sapete che nella baia di Trauto nella prossima settimana ci sarà operativo Nautilus dove potete ormeggiare le barche avendo già i custodi che staranno attento alle vostre barche e in più quest'anno con una grande novità che so che è il ghiaccio per cui avrete anche il servizio di ghiaccio per le barche che omeggeranno nella baia di Trauto cioè al Nautilus e noi torniamo in Italia con Marte come le rughe e ormai di rughe amici no a parte questo ecco si cominciano un po' a badere e poi con il male bene che mi fai che ti fai e finiamo sempre nello stesso letto sono guai come rughe che si imprecciano le mani che lentamente scivolano su un corpo come acqua e scogli come tutte le... fai l'amore con Radio Zimari Radio Zimari fa l'amore con te come rughe come rughe che si intrecciano come rughe che si intrecciano pensi di chi sia la colpa quando mi guardi intensamente e poi mi sfiori con la mente pensi di chi sia la colpa che non c'è pace senza guerra io lo scoglio e tu la stella e non mi dire di no e non mi dire non so se senso venire a fare danni e a me va bene così finché saremo qui faremo finta di non cercarci e poi ho scritto una poesia su un foglio bianco che tu non hai mai letto per rispetto del silenzio come rughe che si intrecciano le mani che lentamente scivolano su un corpo come acqua e scogli come tutte le voglie che hai quando mi incontri nei sogni come rughe che si intrecciano la fragilità non mi ha mai aiutato il peso che ho di averti rifiutato e adesso che ti vedo dove sai come sei in questo venerdì tra l'alba e gli dèi come rughe che si intrecciano nella mia mente i pensieri che scivolano sul tuo volto come lacrime pioggia i tuoi occhi e la costa negli sguardi di chi non resta per non qui e l'alba e gli dèi per non per non E dove sta Iolanda, amici? Batatsu! Donde sta Iolanda? Radio Zimari Web, ricordo che state ascoltando Radio Zimari che trasmette da Panarea, Isole e Olia. E per i mici d'oltreceano siamo in Sisi V. Donde sta Iolanda? Ditemelo voi, dove sta Iolanda? Donde sta Iolanda? Donde sta Iolanda? Donde sta Iolanda? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sasa Santomauro, la miglior musica italiana e straniera, solo quando lo volete voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco le nostre ospite, l'amico Antonio Staiti. Grazie a tutti. 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 I don't ever wanna close my eyes Cause this feeling's like paradise Never felt like this in my whole life Radio Zimari, suggestioni sonore da sentire e da vivere Tuffati nel blu, Radio Zimari, un tuffo nella musica migliore Eh beh sì, se vuoi trovare la miglior musica Devi andare, devi venire, devi sintonizzarti Come dice l'amico Antonio Staiti su Radio Zimari La miglior musica italiana e straniera, amici, la trovate qui O lì Oh, ancora qui Crazy, what love can, David Guetta e Belly Hill Amici a Radio Zimari Che trasmette da Panarea E ricordo agli amici che in questo mercoledì 25 aprile State ascoltando Radio Zimari Amici studio, stasera Santomauro Seconda live di giornata E lasciamo così David Guetta e Benny Hill Con la loro crazy height love E andiamo al prossimo brano, amici Arriva lui, Alexis, Petrocin, Petronio I'm so exactly Yeah Everybody say hey Everybody say oh Which way it's gonna be Which way it's gonna go Tuffati nel blu Radio Zimari Un tuffo nella musica migliore Web Radio Zimari Difidate delle imitazioni Come on, hey Come on I'm just such a go stupid I'm so excited Radio Zimari E la musica prende vita I'm so excited I'm so excited And I like I like If you had a rock or a crew Get down and get your move on Vuoi volare con la fantasia? Ascolta Radio Zimari Con Sassai Santomauro Ed Antonio Seiti Buon ascolto Plan my way By the night just I'm so excited I'm so excited I'm so excited And I like I like I'm so excited I'm so excited I'm so excited And I like I like We create the mood And then we'll pass it around We bout to fill y'all with excitement Tell me how does that sound I'm here to dance I'm here to party Watch me show off my moves I'm here to relax Pour drinks We smack Feel good Let's share that with you Let's go I'm so excited I'm so excited I'm so excited And I like I like To be I'm so excited I'm so excited Alexis Petronio Amici Radio Zimari What What Amici Amici Fashion Unified Yeah We dancing Down The music Be the weapon Of the future In super sound Let's go Hey Come on Hey Come on E lasciamo così Alexis Petronio con la sua I'm so excited e noi andiamo da Pablo Copeda amici delle Zong solo con Radio Zimari puoi volare con la fantasia a Panarea in una delle sette pelle del Mediterraneo ci sono gli studi di Radio Zimari a Panarea 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 e ritornano nuovamente amici virtual friend amici questa volta con il brano Radio Zimari con Sassà Santomauro con Sassà Santomauro ed Antonio Saidi cosa volete di più dalla vita? a Panarea Radio Zimari Radio Zimari la passione per la musica Radio Zimari con Sassà Santomauro una Roman, per la seconda volta in questa seconda live. CRTV, Nuril, Close, You and Me. Penultimo brano in scaletta, amici, di questa seconda live di questo 25 maggio mercoledì. Fai un pieno di musica, Radio Zimari, un mare di musica. Fai un pieno di musica. Fai un pieno di musica. Fai un pieno di musica. Motivi per ascoltare i Radio Zimari sono molteplici. Uno su tutte è perché ha i microfoni dalla console alla parte tecnica, c'è santo male. Radio Zimari, emozioni da sentire e da dire. Marcus Brodowski, amici, Sunset with your love. Per l'ultimo brano in scaletta, amici, di questa seconda live in compagnia del vostro Sasa Santu, Mauro. E mi dispiace per gli amici che si sono appena collegati, però state ascoltando Radio Zimari che trasmette da Panarea, Isole e Olia. In studio, amici, San Santu, Mauro con Antonio Staiti. Il mio nome? Il mio nome è Bond. J.L.S. Bond ha 55 minuti per prendere quel volo. Radio Zimari. Non è una radio qualunque, è una web radio. L'unica, inimitabile, con Sasa Santu, Mauro e chi se no. Lasciati sorprendere da Radio Zimari. Radio Zimari, la passione per la musica. Radio Zimari, ad oltranze. What out your love, amici, Marcus Bradowski e Sunset, ultimo brano in scaletta, amici, dopodiché si passa ai saluti. Anche se devo dire che è una cosa triste, sono i saluti, però dobbiamo abituarci, amici, dobbiamo abituarci. E nel frattempo vediamo cosa c'ha da dirci l'amico Antonio Staiti. Da qualche giorno siamo sbarcati anche su YouTube. Basta digitare De Zimari, tutto attaccato, e sentirete la musica migliore con Sasa Santu, Mauro e Antonio Staiti. Cosa volete di più della vita? Un lucano? Noi con Radio Zimari siamo presenti. E voi ci siete? Radio Zimari, quando la musica diventa poesia. Radio Zimari, la web radio ascoltata in Tuleman. Che tristezza quando si arriva alla fine di ogni live, perché alla fine si sta veramente bene, si è ascoltato la buona musica, e chiudere è sempre un dolore metaforico, si intende. Amici, grazie per aver ascoltato anche questo mercoledì 25 maggio, Radio Zimari, mia dolce o pessima compagnia. Grazie Antonio Staiti, grazie per averci prestato la sua voce ancora una volta. Grazie agli amici australiani, esattamente da South Valley, Sydney. Gli amici di Singapore. Nonché gli amici italiani, tutti quanti gli amici siciliani, un abbraccio a tutti gli amici dell'arcipelago eoliano. E per i meno giovani, dai amici, siete quasi a metà settimana, ce la potete fare, ce la potete fare, dai domani è giovedì, per cui si comincia, siamo quasi a meno due dall'ultimo weekend di questo mese di maggio, dopodiché si comincia, arriva il 2 giugno, che è la festa per tutti gli italiani. E sarà un lungo, lungo, lungo weekend, amici. Ribadisco quello che ho detto a inizio live, che nella prossima settimana il Nautilius aprirà i battenti per la stagione 2022, amici, per cui chi volesse, chi dovesse venire con la barca, sapete che nella baia di Draut, quella a fianco alla baia di Zimmari, appunto dove c'è la radio, potete ormeggiarvi lì, lì loro hanno le boe. Con una novità quest'anno, amici, le barche poteranno esuffluire del ghiaccio direttamente da Nautilius. E con questo, amici, dopo l'informazione, ricordo ancora, ricordo, ricordo l'appuntamento che partirà intorno al 15 giugno con la rubrica dedicato al calcio mercato con Giampiero Letizia e il sottoscritto, dove si parlerà soprattutto di calcio mercato, ma soprattutto ancora di calcio in generale. Da Sassà Santomauro, amici, è davvero tutto, grazie ancora ad Antonio Staiti per averci ancora una volta ascoltato e aver scelto Radio Zimmari Web come la vostra web radio del ventunesimo secolo, come dice l'amico Antonio Staiti. Da Sassà, amici, è tutto, a domani, ciao! DIGITATE DE ZIMMARI Radio Zimmari, fate l'amore con il sapore Zimmari è a Panarea, una delle sette perle delle isole Olie. Lo stile e la professionalità non sono acqua, a Radio Zimmari, professionale come te.